Avevo assolutamente, probabilmente sto facendo la replica perché ho iniziato subito dopo il video, in ogni caso avevo in mente di parlare, di tornare a parlare anche del tennis sul mio canale e quale occasione per concludere l'anno, dopo che abbiamo parlato in uno o due video di Wimbledon, iniziamo a parlare del tennis delle ATP Finals, che da quest'anno fino al 2025 si svolgeranno a Torino e oggi c'era Sinner ragazzi, c'era Sinner contro, non lo so pronunciare, il polacco numero 7 attualmente dell'ATP Final, dell'ATP, della classifica ATP, Urkacz, non lo so pronunciare, Urkacz, Con Sinner che ha preso il posto proprio oggi dopo il ritiro di Berrettini che aveva perso la prima gara, purtroppo Berrettini ha perso e si è dovuto ritirare, è subentrato la riserva Sinner, che ragazzi sappiamo che Sinner veramente ha fatto una stagione pazzesca, ha avuto alcuni tanti alti e alcuni bassi, ma ha vinto vari trofei e poi mi è piaciuto tanto, intanto si è portato per 2-0, 6-2 il primo turno, 6-2 il secondo turno, 6-2 il primo set, 6-2 il secondo set, ottimo Sinner, ha fatto veramente una grande gara, si porta con la sua prima vittoria, la sua prima anche nelle ATP Finals in generale, nel girone rosso davanti a Urkacz, che scala ultimo, anzi no, forse rimane avanti a Berrettini, ma non ne sono sicuro, però penso che vada ultimo perché ha già perso due gare nel gruppo rosso, questo è ciò che è successo, poi mi è piaciuto anche il messaggio che ha dato Sinner in favore di Berrettini, ragazzi Berrettini mi piace, anche Sinner ma mi piace tanto Berrettini, che ha scritto Matteo sei un idolo, ragazzi veramente grande messaggio a parte Yannick, che ha scritto probabilmente non al tennista, sicuramente uno dei tennisti italiani più forti di sempre, il più forte senza alcun dubbio degli ultimi anni, basta vedere che è arrivato a Wimbledon, in finale di Wimbledon, dove nessuno mai aveva toccato, se non sbaglio neanche la semifinale o l'ultima semifinale a 1965, se non sbaglio, comunque vince Sinner, grande gara ragazzi, da parte di Sinner, ha perso solamente 4 game, ne ha vinti 12, quindi veramente grande prestazione da parte di Sinner, che oggi riesce a risolverla, riesce a vincere contro il numero 7 del mondiale, del mondiale, mi viene ormai per il video qualificazione mondiale, dell'ATP, vince molto bene, ragazzi, se non sbaglio, tipo un'oretta e mezza, quindi ci ha messo molto poco Sinner, questa volta ha fatto veramente una grande prestazione Sinner, ha dimostrato di essere un campione e che lui, secondo me, vuole arrivare fino in fondo a queste ATP Finals, domani ci sarà la quarta giornata, dopo che c'è stato scontro tra Medved e Zverev, vinto in 3-7 da Medved, 6-3 il primo in favore di Medved, 6-7 in favore di Zverev, il secondo 7-6 in favore di Medved, l'ultimo dove si è andato anche al tiebreak. Comunque, questo è ciò che volevo dire, volevo un attimo parlare delle ATP Finals, e poi mi è piaciuto tanto che, tipo, io, ragazzi, non ce l'ho, non mi piace assolutamente il collegio, e quindi dicevano, i tizi, ma dov'è il collegio, oh mio Dio, mi immagino già domani i bimbi che seguono il collegio, sclerando in classe i bambini di 8 anni che sclerano, bestemmiano, smadonnano, tirano di tutto per questo. In ogni caso, a parte di questo, in un'ora e 28, Yannick Sinner, infatti c'avevo ragione, si sparazza di Urcax, veramente grande, grande gara da parte di Yannick Sinner, che secondo me se continua così potrebbe fare veramente tanto bene anche nella ATP Finals, dove non ci doveva essere, era stato disegnato come riserva di Berrettini, e alla fine la riserva oggi ha anche vinto. In ogni caso, questo video si conclude qua, fatemi sapere, in ogni caso ci si becca, ciao ciao!